In Molise, in seguito all'emergenza idrica, proseguono le chiusure dei serbatoi. Fa chiarezza il presidente di Molise Acque. Registriamo già da diversi mesi una situazione di grave siccità. Stiamo cercando di limitare al massimo i disagi. Questo quanto affermato dal presidente di Molise Acque Stefano Sabatini in merito alle chiusure notturne dei serbatoi e che stanno facendo rimanere a secco i rubinetti in alcuni comuni. Da parte nostra c'è la massima collaborazione, così Sabatini, che sottolinea anche il grande lavoro degli operatori dell'ente. Noi come Molise Acque abbiamo lanciato un grido d'allarme già dal mese di marzo, marzo poi anche aprile, abbiamo notiziato tutti i prefetti, abbiamo notiziato tutti i comuni dicendo che la nostra previsione era che dovevamo prepararci a alcuni mesi di difficoltà. Visto lo stato delle sorgenti, che praticamente hanno oggi una portata che è dimezzata rispetto a quella loro ordinaria. Quindi questo ha comportato da parte nostra l'esigenza di collaborare strettamente con i comuni e anche con la Grim, che gestisce gran parte delle reti comunali molisane, in modo da far sì che i cittadini avessero il minor disagio possibile. Intanto resta il problema principale, quello delle reti idriche vecchie e oramai usurate. I comuni molisani purtroppo hanno delle perdite notevoli. Secondo una previsione che abbiamo fatto noi, un'analisi, se queste perdite non ci fossero state, credo che i cittadini molisani non si sarebbero accorti di questa situazione di siccità. Pensate che la città di Campobasso ha perdite che sono valutate nell'ordine del 66%, ma ci sono anche i comuni che soffrono ancora di più. Quindi lo sforzo comune, noi vogliamo dare il nostro contributo per quello che possiamo fare, deve andare nella direzione di sanare le reti idriche dei comuni molisani.